Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Dash, anche benvenuti in questo nuovissimo video, e ad oggi guarderemo tutta la storia della storia di Jason Burdeter. Se non avete visto il video su, come si chiama, venerditri, venerditri, ci consiglio di farlo. Comunque, iniziamo. Un attimo, meglio si ha il telefono. No, no. No, no. No, no. Un attimo. Ok, scusate, dovevo mettere la parte di italiano perché altrimenti spiego che non potevo. Iniziamo. Non è fatto il mio. Forse due. Venerdì tredici parte quattro. La maschera di Jason è un pochino più mal ridotta e fuori dalla maschera è sempre più brutto. Purtroppo viene ucciso da un macchino e si crede morto. Il verde tredici parte quattro vuole sembrare Jason, ma non dura più di due giorni. Il verde tredici parte quattro. Il verde tredici parte quattro viene riportato in vita grazie a un fulmine. E, dato che è di nuovo vivo, si riprende la sua maschera e ha una nuova attrezzatura per uccidere le persone. Non mi avviene. Invece il verde tredici parte... Una signora con dei poteri super forti riporta in vita Jason dall'acqua. Ricava delle catene e un vestito un pochino strappato. La stessa persona rompe la maschera di Jason e con i suoi poteri porta in vita un tizio dal mare che prende Jason e lo annisa. Verdi tredici parte otto Jason grazie all'elettroshock viene riportato in vita e compra una nuova maschera. Freddi il tralietto verrà da più e segue le vittime. E non mi viene sull'altro nell'acido. E l'invento il verde parte da un bel... ...viene riportato in vita e di nuovo la sua maschera è più attaccata alla faccia. E viene distrutto da un esercito militare. Wow! Ma grazie a un tocchetto di reincarnazione Jason è di nuovo vivo nelle sue sembianze. Però per colpa di una magia viene riportato all'inferno. DLC Jason contro Freddy, Freddy porta in vita Jason. Un momento... Un momento... C'è mamma... Nonna! Un momento che stavo registrando un video... Stavo registrando un video... Un momento... Ok... 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 D'accordo... Così diventa ancora più spaventoso. Wow... De 10... E viene riportato in vita con la stessa tecnologia e ha una nuova super maschera. Wow... Però viene distrutto nello spazio. Invece di 13 parte 11... E viene completamente risettato. E la storia finisce qui perché riesce a completare la sua missione. Mi, 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 mi Mi, mi... Mi, 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 mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi